Ola a tutti, io sono Claudia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un caso molto particolare perché parleremo di un omicidio che sembrerebbe avvenuto per ordine del diavolo. Però prima di cominciare, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina qui sotto per non perdervi più nessun mio video e se vi va di seguirmi anche su Instagram. Cominciamo. Ci troviamo a Brookfield in Connecticut in una cittadina molto tranquilla. Il 16 febbraio del 1981 Arnie Cheyenne Johnson ha pugnalato a morte il suo padrone di casa, Alan Bono. Arnie all'epoca aveva solamente 19 anni. Voi penserete Claudia sei pazza, ci stai già dicendo la fine del video. Ma vediamo un po' come ci è arrivato Arnie a commettere questo omicidio. Arnie è stato accusato di omicidio e viene arrestato dalla polizia che fissa una cauzione di 125.000 dollari. Arnie si dichiara non colpevole in quanto dichiara che al momento del crimine era posseduto dal demonio. Da lì inizia un processo per omicidio che fa scalpore in tutto il mondo e tutto inizia a ruotare intorno a Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine quando è avvenuto questo omicidio da parte di Arnie hanno promesso che avrebbero portato il diavolo in tribunale e così decidono di contattare un avvocato ovvero Marty Minnella. Marty quando è venuto a conoscenza di tutto quanto l'ha accaduto fissa immediatamente un incontro a casa dei Warren a Moreau in Connecticut. I Warren iniziano a raccontare che Arnie era stato di recente spettatore di alcuni esorcismi che hanno coinvolto un bambino di nome David che era il fratello della ragazza di Arnie. David aveva solamente 11 anni quindi appunto parliamo di un bambino e Arnie vivendo a casa della famiglia di Debbie la sua fidanzata ha assistito a tutto quello che vi sto per raccontare. David era stato vittima di una possessione e Marty ovviamente prima di accettare il caso chiede ai Warren delle prove così i Warren fanno ascoltare a Marty delle registrazioni vocali di David durante la possessione e Marty appena ascolta questi vocali capisce immediatamente che c'era per forza qualcosa di soprannaturale dietro che non si trattava insomma di una scemenza e quindi decide di accettare il caso. Per far capire però bene il caso a Marty i Warren devono fare un passo indietro di sette mesi e quindi ci ritroviamo a luglio del 1980. Arnie Johnson aveva 18 anni ed era fidanzato con Debbie Gletzel una ragazza più grande di lui lei all'epoca aveva 26 anni e faceva la toilettatrice per animali. Arnie e Debbie si conoscevano fin dall'infanzia e avevano deciso di sposarsi in autunno così in previsione del loro futuro matrimonio decidono di cercare una casa tutta per loro e trovano una casa che gli piaceva molto fuori da Bridgeport dove si trovava attualmente Debbie con la sua famiglia e dove c'era anche Arnie. Debbie e Arnie trovano una casa che si trova a Newtown e il 2 luglio del 1980 cominciano i preparativi per la nuova casa quindi piano piano a portare tutte quante le loro cose a ripulire, a sistemare e questa casa si trovava comunque a pochi chilometri dalla famiglia di Debbie. Allora Judy, la mamma di Debbie ne approfitta insieme ai suoi due figli Alan e David per andare a trovare Arnie e Debbie per vedere la nuova casa e per dargli una mano tutti appena vedono la nuova casa di Debbie Arnie si complimentano ma Judy non lo fa Judy appena entra dentro casa percepisce qualcosa di brutto lei racconta che nonostante tutte quante le finestre fossero aperte era come se ci fosse buio e dice che sentiva delle brutte sensazioni non aveva molto piacere a stare all'interno di quella casa talmente le sue sensazioni erano così sgradevoli all'interno di quella casa che chiede a sua figlia Debbie se potevano cercare un'altra casa perché lei non si sentiva tranquilla ma ovviamente Debbie e Arnie avevano investito i loro risparmi per prendere quella casa e erano appena arrivati comunque avevano appena iniziato a fare il trasloco e quindi diciamo che Debbie non ne voleva proprio sentir parlare di andarsene la casa era stata data a Debbie e Arnie completamente vuota ad eccezione di un materassa d'acqua che si trovava nella camera da letto Judy, ovvero quindi la mamma di Debbie, sale le scale e dice che appena sale le scale per andare a vedere il piano di sopra dove si trova appunto la camera da letto gli viene un forte mal di testa e sente come una presenza che la osserva a quel punto Judy insiste nuovamente con Debbie di queste sue brutte sensazioni ma come già vi ho detto prima a Debbie non interessava nulla e Debbie siccome c'erano moltissime cose da fare chiede ai suoi due fratelli Alan e David di dargli una mano dà letteralmente in mano la scopa a David perché era il più piccolo e gli dice di dargli una spazzata David decide di iniziare a pulire dove c'era la futura camera da letto di Debbie e Arnie e dove c'era appunto questo famoso e benedetto materassa d'acqua neanche il tempo di iniziare a pulire che David scappa dalla camera da letto si dirige nel giardino si siate sotto un albero ed è completamente spaventato Debbie a quel punto vede suo fratello David con una faccia sconvolta si avvicina a lui e gli chiede che cosa fosse successo ma David si limita solamente a dire che vuole tornare immediatamente a casa Debbie però era talmente impegnata con tutto quello che c'era da fare che sul momento non si mette lì ad ascoltare David e prosegue appunto con tutti quanti i lavori che stavano facendo una volta terminata la giornata tornano tutti quanti a casa di Debbie perché ancora non si erano trasferiti completamente e David e suo fratello Alan cominciano a raccontarsi le rispettive esperienze che gli erano successe nella nuova casa della loro sorella e appena entrambi si raccontano quello che è successo capiscono che è il caso di doverne parlare con Debbie Arnie e Alan inizia a raccontare a loro che mentre stava pulendo improvvisamente la porta della camera da letto si è chiusa e lui per qualche minuto ha provato ad aprire la porta ma non riusciva ad uscire mentre David inizia a raccontare che appena è entrato nella camera da letto ha visto una figura trasparente di un uomo anziano che gli diceva di stare attento David aggiunge che se chiudeva gli occhi continuava a vedere questo uomo e non solo, David afferma che questo signore di notte si trasformava e diventava una bestia dagli occhi neri e incavati con denti a guzzi e orecchie a punta al che tutti quanti hanno iniziato a pensare che magari era un bambino con abbastanza fantasia visto che comunque era anche un grande lettore di fumetti e non hanno dato molto peso a questo suo racconto ma nonostante ciò sapevano benissimo che David non era un bugiardo a quel punto David vedendo tutti quanti un pochino così incerti continua il discorso dicendo che questa bestia gli avrebbe fatto del male perché lui aveva raccontato tutto quanto alla famiglia e non solo dice che la bestia gli diceva che Arnie e Debbie dovevano lasciare immediatamente la casa altrimenti ne avrebbero pagato le conseguenze Debbie ovviamente era molto spaventata di quello che David gli stava dicendo ma comunque allo stesso tempo non voleva rinocciare a casa specialmente perché non aveva nessuna prova che quello che David stesse dicendo fosse vero quindi sia Debbie che Arnie decisero che il trasloco doveva proseguire il giorno dopo ovvero il 3 luglio Arnie doveva portare degli scatoloni nella casa nuova mentre è lì che sistema gli scatoloni ad un certo punto si sente toccare una spalla però Arnie non dà molto peso a questa cosa pensa che magari era un pochino suggestionato da quello che David aveva raccontato quindi non racconta nulla di quello che vi era successo lo stesso giorno che Arnie stava sistemando questi scatoloni la vecchia proprietaria di casa Karen torna a riprendere il materassa d'acqua che aveva lasciato a quel punto Debbie che la incontra gli chiede se dentro quella casa fosse mai successo qualcosa e se gli fosse mai successo qualcosa a lei Karen risponde che effettivamente c'era qualcosa di strano dentro quella casa e maggiormente tutto quello che gli era capitato gli era capitato nella camera da letto dice che molte volte prima di andare a dormire sentiva come dei sussurri e quando entrava dentro al letto sembrava come se qualcuno fosse vicino a lei e sentiva proprio tutta la zona di fianco a lei fredda, gelata le racconta che c'erano stati anche vari rumori e dice che una volta ha visto anche un signore anziano Debbie appena sente questa cosa va immediatamente da Arnie gli racconta tutto quanto e gli dice che non vuole più continuare il trasloco Arnie è d'accordo e gli dice che non è un problema che potevano comunque riprendere i loro soldi così Arnie e Debbie lasciano definitivamente la nuova casa di Newtown e ritornano a casa di Judy a Brookfield lo stesso giorno durante la serata mentre tutti quanti insieme stavano vedendo la tv David inizia a gridare e inizia a dire che la bestia stava arrivando lì diceva che la bestia aveva appena lasciato la casa di Newtown e che si stava dirigendo verso la loro casa racconta che ormai la bestia era vicina e dice che era proprio davanti alla loro porta di casa così Judy presa un po' dal panico si alza e corre immediatamente ad aprire la porta ma ovviamente non vedeva e non c'era nessuno David a quel punto dice che la bestia era fuori la finestra così Judy prende l'acqua benedetta e inizia a buttarla un po' per tutta casa e inizia a benedire anche suo figlio David David a quel punto impazzisce dopo che Judy ha benedetto tutta la casa David dice che la bestia se n'era andata Il giorno dopo, ovvero il 4 luglio nessuno parla dell'accaduto come se tutto fosse stato solamente un brutto sogno poi comunque quel giorno era una giornata di festa e la famiglia Gletzel aveva deciso di andare a fare un picnic una volta tornati da questo picnic mentre stavano per entrare dentro casa David inizia a dire che la bestia era dentro che era entrata dal solaio Arnie abbraccia David e gli dice di stare tranquillo di entrare che sicuramente non c'era niente e che per qualsiasi cosa c'erano loro David diciamo che non era molto convinto però non è che poteva dormire fuori casa quindi entra tutto procede tranquillamente quindi trascorrono una delle loro solite serate vanno tutti quanti a dormire e durante la notte ad un certo punto Arnie e Debbie iniziano a sentire dei rumori che prevenivano sopra di loro ovvero dalla soffitta questi rumori erano talmente forti che ovviamente tutti quanti si sono svegliati e Debbie voleva chiamare la polizia perché pensava che qualcuno fosse entrato dentro casa Arnie gli dice di stare tranquilla di aspettare che prima andava lui a controllare se c'era qualcosa che non andava e che cosa fosse Debbie un po' di dubbante lo lascia andare Arnie va su ma al di là delle semplici scatole che avevano nella soffitta non c'era nient'altro quindi Arnie scende giù tranquillizza tutti quanti tranquillizza Debbie e si rimettono a dormire neanche il tempo di riprendere il sonno che i rumori non tardano a ricominciare Debbie è terrorizzata ma fortunatamente dopo qualche minuto i rumori finiscono e si rimettono tutti quanti a dormire passano i giorni e Judy è sempre più preoccupata per suo figlio David perché David comunica con la bestia e la bestia gli dice che dentro casa dovevano far sparire tutti quanti i crocifissi tutte quante le immagini religiose perché ovviamente gli davano fastidio ma Judy essendo una grandissima cattolica non ci pensa minimamente ad obbedirgli il 9 luglio la famiglia decide che è arrivato il momento di contattare un prete ma ovviamente David gli diceva che la bestia non voleva che la bestia gli comunicava che non dovevano contattare nessun prete altrimenti ne avrebbero pagato amaramente le conseguenze da quel momento a David sono iniziati a comparire addosso dei lividi il giorno dopo ovvero quindi il 10 luglio Judy decide che è arrivato effettivamente il momento di parlare con un prete e contatta padre Dennis contatta questo prete gli racconta tutta quanta la situazione e padre Dennis decide di procedere con una benedizione della casa mette al collo di David una figura con un'immagine religiosa e benedice tutti quanti il giorno dopo quindi l'11 luglio mentre David stava bevendo dell'acqua in cucina dice che il suo giocattolo a forma di dinosauro si è mosso da solo e dice che in quel momento ha sentito una voce che gli diceva stai attento David ovviamente racconta tutto quanto alla sua famiglia e sua madre Judy cade nello sconforto più totale perché capisce che la benedizione che padre Dennis aveva fatto era stata completamente inutile quella notte mentre tutti quanti insieme stavano vedendo la tv David inizia letteralmente a torcersi dai dolori e tutti quanti dicono che sembrava come se David venisse ripetutamente colpito David dice che la bestia l'aveva pugnalato con una lama nel petto così Judy alza immediatamente la maglietta di David e vedono che sul petto di David c'erano tre graffi rossi ma non sanguinanti David a quel punto dice che la bestia gli diceva che voleva la sua anima e che se non gliel'avesse lasciata avrebbe reso la sua vita un inferno David a quel punto essendo anche lui credente dice alla bestia che non aveva minimamente intenzione di lasciargli la sua anima così la bestia per farsi aiutare chiama degli alleati David riferisce ovviamente tutto alla famiglia e gli dice che le bestie in totale erano adesso 43 David era letteralmente terrorizzato nel vedere quelle figure e dice che nessuno di loro aveva un nome tutte quante venivano chiamate dalla bestia con dei numeri e David dice che la bestia aveva assegnato ad ogni componente della famiglia delle bestie che li tenevano sotto controllo secondo i demonologi se le entità vengono chiamate con i numeri e il vero nome resta ignoto conservano intatto il loro potere sulla vittima con David ovviamente c'era sempre più di un'entità e lo picchiavano lo torturavano gli facevano veramente tantissime torture appunto veramente tante sevizie per cercare di farlo stremare per renderlo sempre più debole Judy a quel punto è veramente esausta per non parlare del povero David e decide di ricontattare nuovamente padre Dennis gli racconta che andava sempre peggio e che le benedizioni non bastavano il prete a quel punto dà Judy il numero di Ed e Lorraine Warren che abitavano non molto lontano da lì Lorraine era una medium e Ed un esperto in demonologia erano marito e moglie e indagavano su casi di possessione i Warren hanno sempre visto tutti questi casi sotto l'occhio della chiesa cattolica e era proprio il loro sistema di credenze e anche la loro fede anche i Gletzel erano cattolici quindi padre Dennis ha pensato che non c'erano persone migliori di Ed e Lorraine per poter seguire diciamo questo caso li vedeva proprio adatti alla loro situazione il 13 luglio di domenica sera Judy contatta i Warren piccola parentesi Lorraine racconta nel documentario che ho visto che quello stesso giorno che ha ricevuto la chiamata lei e Ed nel pomeriggio erano in giro in macchina sono passati per Brookfield e lei si mette con lo sguardo un po' perso nel vuoto e Ed gli dice che cosa hai visto? lei gli risponde niente ma gli dice che si sentiva che sarebbe successo qualcosa e che quel qualcosa sarebbe successo proprio lì a Brookfield tornando appunto alla telefonata tra i Warren e Judy dopo aver sentito tutto quello che stava succedendo i Warren decidono di regarsi immediatamente a casa della famiglia Gletzel i Warren portano insieme a loro un collaboratore fidato che si chiama Anthony John Gressel che è un medico Anthony va insieme a loro per accertarsi che David non abbia nessun tipo di problema fisico e mentale i Warren arrivano a casa della famiglia Gletzel Anthony visita David e esclude qualsiasi tipo di problema fisico e mentale così a quel punto Ed e Lorraine iniziano a basare l'indagine sul paranormale Lorraine inizia a parlare con David e David gli dice che la bestia era nel soggiorno Lorraine era in grado di vedere l'aura delle persone e effettivamente si guarda intorno e vede che in un punto del soggiorno c'era una presenza oscura ed era la stessa presenza che vedeva David Ed a quel punto inizia a concentrarsi davvero perché sapeva che se Lorraine aveva visto qualcosa c'era effettivamente qualcosa Ed inizia a provocare l'entità per cercare di capire che cosa fosse e a quel punto sentono battere tre colpi sul tavolo Tre colpi sul tavolo significa che il demone è presente I demonologi dicono che il diavolo usa il tre per sbeffeggiare la trinità Le tre del pomeriggio è la morte di Gesù Le tre di notte quindi è l'ora in cui il diavolo è al massimo delle sue forze in opposizione e contrasto al bene Se il diavolo lascia delle ferite è probabile che queste ferite, questi segni siano tre Questo non me lo sto inventando io questo appunto vi ripeto è quello che dicono i demonologi Ed e Lorraine a quel punto dicono ai Gletzel che non si trattava della tipica possessione ma confermano che si trattava comunque di forze malvagie e potenti Ed a quel punto chiede a David se l'entità gli avesse detto il suo nome e David risponde che il suo nome era Satana A quel punto i Warren basandosi sulle visioni di Lorraine e sulle parole di David comunicano ai Gletzel che una schiera di demoni guidata da Satana con 42 diabolici servitori era entrata dentro casa Lorraine conferma che Satana si serviva di David per parlare e che si trattava di una fase molto lunga che è la fase che precede la vera e propria possessione demoniaca I Warren a quel punto consigliano alla famiglia Gletzel di effettuare un esorcismo perché ritengono che David sia veramente in grave pericolo e che ovviamente David rischia di perdere la sua anima A quel punto l'unico modo per liberare David è l'intervento di un esorcista autorizzato dalla Chiesa Cattolica ovviamente però non è molto semplice praticare un esorcismo perché per avviare un esorcismo bisogna avviare un lungo processo formale il caso deve essere valutato e approfondito dalla diocesi, dall'arcidiocesi e dal Vaticano e bisogna raccogliere una gran quantità di prove per poter avviare il tutto quindi diciamo che non si può chiamare e prendere un appuntamento così con tutta la facilità del mondo ovviamente i Warren sono molto preoccupati per la famiglia Gletzel e Ed gli spiega nell'attesa dell'esorcismo come possono fare per provare a proteggersi quindi i Warren danno alla famiglia del sale benedetto e delle candele che serviranno a tenere a bada i demoni e gli dicono che è importantissimo non lasciare David da solo e ovviamente i Warren prima di andarsene aggiungono che per qualsiasi cosa potevano e dovevano chiamarli la famiglia Gletzel ovviamente si sente molto molto più serena ma purtroppo tutto quanto non termina qui dopo che i Warren sono andati via quindi parliamo della stessa sera la famiglia si mette in salotta a guardare questa benedetta tv che non gli ha portato molto bene fino adesso e dopo un po' mentre stavano guardando la televisione David di improvviso si alza e tira fuori un coltello prende questo coltello e lo punta alla gola di suo fratello Alan Arnie prende immediatamente dell'acqua santa e David prima che Arnie gli butta l'acqua santa addosso gli dice di non farlo altrimenti lo avrebbe ucciso Arnie a quel punto inizia a recitare il salmo 23 e David sviene a terra sua madre Judy ovviamente presa dal panico chiede a sua figlia Debbie di richiamare un'altra volta i Warren i Warren erano poverini rientrati da poco a casa e ricevono una chiamata da Debbie che gli diceva di correre immediatamente perché la bestia era tornata i Warren quindi si dirigono di nuovo immediatamente a casa della famiglia Gletzel e appena arrivano dentro casa trovano David steso per terra che sembrava senza vita però poco dopo grazie alla presenza dei Warren David si riprende perché grazie alla presenza dei Warren perché nel documentario che ho visto Lorraine dice che siccome loro sapevano come affrontare i demoni non avevano paura di loro i demoni era come se in loro presenza se ne andavano questo è quello che lei dice cioè comunque adesso tralasciando che se sia per merito dei Warren o meno David si riprende completamente Ed a quel punto dice alla famiglia Gletzel che da quel momento in poi dovevano stare molto molto attenti e che non dovevano trattare David come un loro familiare quindi in particolar modo Judy non doveva trattare David come suo figlio perché molte volte non era più suo figlio e Debbie non doveva trattarlo come suo fratello perché molte volte non era più suo fratello Judy quindi chiede ai Warren se suo figlio David fosse effettivamente posseduto Lorraine gli risponde che non era completamente posseduto sembrava quasi come se la bestia entrasse e uscisse dal corpo di David più volte durante il giorno e che quindi non si trattava ancora di una vera e propria possessione Lorraine aggiunge anche che era stato attaccato David perché era la persona più vulnerabile nelle successive due settimane David ha più di una dozzina di episodi di possessione ormai la famiglia e soprattutto David sono stremati il copione era sempre lo stesso ogni notte David veniva attaccato fisicamente la famiglia Gletzel è sempre di più in attesa che la chiesa cattolica approvi l'esorcismo e nel mentre combattono con le uniche armi che hanno a loro disposizione quindi preghiere, immagini sacre e acqua santa Debbie ogni qualvolta che David era posseduto in sua presenza lei lo registrava di modo tale che poi avrebbero avuto abbastanza prove sufficienti da mandare al vescovo nel corso di quella brutta estate i coniugi Warren vanno spesso a trovare la famiglia Gletzel per offrirgli il loro sostegno e il loro aiuto Ed e Lorraine erano due persone fantastiche avevano molta paura per loro e erano molto preoccupati quindi consigliano alla famiglia di pregare molto e di tenere un diario su tutto quello che succedeva e quando succedeva siamo al 26 luglio e durante la mattinata Alan si trovava da solo a casa ma sente dei rumori particolari provenire dalla camera di David e questi rumori sembravano come un sibilo andando poi più vicino alla stanza Alan sente che questo sibilo era proprio come il sibilo di un serpente i Warren quando hanno saputo questa cosa gli dicono che il serpente non è mai niente di buono e che molto probabilmente il demone avrebbe potuto attaccare anche il resto dei familiari quella stessa sera del 26 luglio Debbie stava dormendo e come al solito dormiva a pancio in sotto con le braccia sotto il cuscino e improvvisamente sente qualcosa afferrargli la mano Debbie ovviamente si sveglia immediatamente e riporta tutto quanto quello che è successo sul diario il giorno dopo quindi il 27 luglio anche Arnie ha un incontro spaventoso con questa brutta entità dice che ha visto una figura umana tutta nera con gli occhi incavati proprio come l'aveva già descritta David e è rimasto completamente scioccato racconta tutto alla sua famiglia e tutti rimangono scioccati perché era la prima volta che al di là di David qualcuno vedeva la bestia Debbie riempie tantissime pagine di diario sugli attacchi che David aveva subito il primo agosto Debbie ha scritto questa cosa qui che adesso vi leggo la figura ha parlato a David se qualcuno deciderà di fermarlo li ucciderà tutti vale anche per i Warren se verranno ad aiutarci più tardi nello stesso giorno quindi il primo agosto Judy lascia per un attimo da solo David i Warren si erano raccomandati di non lasciare mai David da solo ma piuttosto di fare a turni quel giorno Judy era da sola si è dovuta assentare per un attimo e quando torna sente delle parole che credo nessuna madre avrebbe mai voluto sentire appena entra nella stanza di suo figlio suo figlio tra virgolette gli dice David non è qui la sua anima ormai è mia qualcuno morirà Judy chiama immediatamente i coniugi Warren e padre Grasso un prete della chiesa di San Joseph appena i Warren e padre Grasso arrivano a casa Gletzel si dirigono immediatamente verso la stanza di David appena aprono la stanza non potevano credere ai loro occhi perché David stava letteralmente levitando sul letto i coniugi Warren e il prete raccontano che David aveva completamente gli occhi neri e che appena David ha visto il prete e i coniugi Warren ha iniziato a dire David se n'è andato ovviamente non con questa voce e neanche con la voce di David a quel punto il prete ha capito che bisognava agire immediatamente senza esitare così si rivolge a padre Vergelac un esorcista padre Vergelac appena viene a conoscenza di tutto quanto capisce che la famiglia non può aspettare che l'Arcidiocesi e il Vaticano completino tutta quanta l'indagine ufficiale per questo padre Vergelac autorizza in via informale un cosiddetto esorcismo minore nella locale chiesa di San Joseph il prete purtroppo non poteva eseguire un vero e proprio esorcismo e così decide appunto di fare questo esorcismo minore che è comunque un esorcismo dove si recitano delle preghiere ed è comunque un rito potente ed è sempre un primo passo che si fa per liberare la vittima dalla possessione quindi arriviamo al 2 settembre che è il giorno in cui è stato portato David nella chiesa di San Joseph per praticare questo esorcismo minore e David dovuto essere portato avvolto da un lenzuolo perché cercava di vincolarsi e di scappare e l'unico modo è stato stringerlo appunto il più possibile con un lenzuolo l'esorcismo minore ha inizio e il prete ordina l'entità in nome di Cristo di andarsene dal corpo di David David ha iniziato a bestemmiare e a rivolgersi al prete in latino ovviamente non è stata l'unica cosa che è successa perché all'improvviso i messali sono cominciati a volare per la chiesa e durante tutto questo trambusto Ed a un certo punto esclama questo non è più David a quel punto David si libera dal lenzuolo con cui era stato avvolto e graffia il prete dopo questo attacco David viene a terra e sembra quasi come se David non avesse più vita ovviamente sono tutti quanti impauriti ma non volevano interrompere l'esorcismo eccetto Debbie che è molto spaventata allontana il prete da David e gli dice di terminare e scoppia in un pianto a questo punto padre Vergelac si trova costretto ovviamente a non completare l'esorcismo poiché era molto pericoloso per la vita di David e anche perché la famiglia non voleva che continuasse questo esorcismo Lorraine dice che non era la soluzione migliore perché poi avrebbero dovuto riniziare tutto quanto da capo però comunque nonostante ciò decidono di finire lì questo esorcismo minore e di prendere un altro appuntamento per la settimana successiva arriva l'8 settembre quindi il giorno in cui avrebbero riprovato a praticare questo esorcismo minore e i Warren specificano prima alla famiglia Gletzel che in nessun caso a prescindere da quello che avrebbero visto o sentito non dovevano interrompere l'esorcismo ovviamente il giorno non è stato scelto a caso ma è stato scelto l'8 settembre perché si tratta della natività della Vergine Maria e il secondo incontro anche esso è venuto nella chiesa di San Joseph e fortunatamente a questo incontro è andato tutto quanto liscio quindi sono riusciti a terminare questo esorcismo minore e la famiglia pensava che era tutto quanto terminato Lorraine però dice che per accertarsi che tutto quanto fosse veramente terminato dovevano aspettare il passare della mezzanotte quindi la famiglia torna a casa a Brookfield accompagnati sia dal prete che dai coniugi Warren e aspettano tutti quanti insieme il passare della mezzanotte con la speranza ovviamente che non si sarebbe più verificato nulla passata la mezzanotte improvvisamente David si alza di scatto e inizia a muoversi velocemente e a fare versi strani proprio come dei ringhi il suo corpo inizia ad avere come degli spasmi e tutti gli oggetti per casa iniziano a volare così Debbie prende immediatamente una cintura ovviamente si fa aiutare e mettono David su una sedia e con questa cintura lo legano per tenerlo fermo Arnie è particolarmente sconvolto nel vedere questo bambino così indifeso e impaurito vittima di queste presenze allora si avvicina a David e sfida il demone perché dice alla bestia di lasciare in pace David e di prendere lui Rain dice immediatamente a Arnie di smetterla che non era la cosa giusta da fare perché non stava effettivamente parlando a David e che non stava sfidando un semplice essere umano ma che davanti aveva una creatura dall'immensa forza quella battaglia tra David e la bestia purtroppo è proseguita per tutta la notte tutti erano stremati dopo tantissime ore di preghiere e finalmente alle prime luci dell'alba tutto quanto si inizia a tranquillizzare tutti quanti dicono che nell'aria c'era un'atmosfera diversa un'energia diversa non si sentiva più quella negatività che c'era fino al giorno prima o meglio fino a qualche ora prima quindi capiscono che l'esorcismo ha avuto effettivamente effetto i Warren però temono che questa pace purtroppo non possa durare per molto Lorraine sentiva incombere un senso di tragedia nella casa i Warren ovviamente avvisano Arnie di essere molto prudente visto che aveva sfidato il demone passa del tempo arriviamo a novembre e ormai sono passati appunto due mesi dall'esorcismo finale quindi diciamo che per la famiglia Gletzel è iniziato un nuovo capitolo David ha compiuto da poco 12 anni ed è tornato ad essere il ragazzino diciamo spensierato di una volta Arnie in questo tempo sembra non aver manifestato nessun effetto negativo nonostante avesse appunto sfidato il demone e quindi niente insomma in casa Gletzel finalmente sembrava regnare un po' di pace un po' di serenità a questo punto Arnie e Debbie decidono di riprendere in mano la loro vita Debbie inizia a lavorare per Alan Bono un cittadino di Brookfield che gestisce il canile municipale Debbie come dicevo all'inizio del video fa la tolettatrice e oltre a percepire lo stipendio da Alan Alan gli offre sia a lei che a Arnie un alloggio quindi Arnie e Debbie si sono trasferiti in una abitazione all'interno del terreno del canile e Alan Bono viveva in un appartamento sopra i locali del canile Alan però non era solo un datore di lavoro e un proprietario di casa era anche diventato un amico per Debbie e Arnie il 16 febbraio del 1981 alle ore 18 e 30 un agente di polizia di turno sulla volante riceve una segnalazione alla radio che gli dice di intervenire subito per una colluttazione che era avvenuta al canile municipale di Federal Road l'agente quindi si dirige subito al canile arriva appunto davanti casa e Alan Bono era ferito in modo grave e Debbie che era all'insieme a lui ha iniziato a dire che Alan era stato accoltellato ed era stato accoltellato dal suo fidanzato Arnie l'agente si precipita immediatamente da Alan per sentire se aveva ancora battito una volta accertato che Alan era ancora vivo chiama immediatamente i soccorsi Alan viene immediatamente portato all'ospedale e nel mentre Debbie racconta appunto agli agenti che era stato il suo fidanzato ad accoltellare Alan e che una volta che ha accoltellato Alan ha preso ed è scappato e Debbie ci tiene a precisare che Arnie poteva essere pericoloso dopo aver lasciato Alan all'ospedale l'ambulanza riprende la strada che porta verso la città all'interno dell'ambulanza c'era anche l'agente Norman Ellis e mentre appunto si stavano dirigendo verso la città mentre stanno transitando su un ponte l'agente Norman nota qualcosa di strano quindi si fermano e vedono che c'era un ragazzo e questo ragazzo indovinate un po' chi era ovviamente si trattava di Arnie Johnson dopo qualche minuto ovviamente arriva una volante sul posto dove è stato trovato Arnie e mentre Arnie veniva ammanettato continua a ripetere è successo qualcosa ma non mi ricordo cosa Arnie intanto viene portato alla centrale di polizia e nel frattempo gli agenti ricevono notizie sulle condizioni di salute di Alan e purtroppo vengono a sapere che Alan Bono è deceduto passata un'ora e mezza dall'omicidio il detective Lucas incontra Arnie il detective dice che Arnie sembra molto confuso ma ovviamente ciò non può impedire al detective di dire ad Arnie che è in arresto per omicidio Arnie è sconvolto e dice che non è possibile che molto probabilmente si stavano sbagliando con qualcun altro tramite le dichiarazioni che rilascia Debbie alla polizia e oltre ulteriori indagini che la polizia effettua sulla scena del delitto riescono a capire che cosa è successo quella sera tra Alan Bono e Arnie Johnson Debbie racconta che quella sera Arnie non si sentiva particolarmente bene perché aveva mal di gola e lei gli ha dato un antibiotico e gli ha detto dai magari andiamoci a mangiare una pizza tutti e tre insieme ad Arnie non è che gli andava moltissimo però comunque alla fine accetta ed escono tutti quanti insieme a mangiare una pizza quella sera gli danno un pochino giù con il vino tant'è che anche il barista gli dice di fermarsi che era arrivato il momento di smettere di andare a casa quindi si dirigono tutti quanti a casa e vanno nell'appartamento di Alan per continuare la festa ad un certo punto siccome avevano la musica troppo alta Debbie chiede se potevano abbassare il volume e Arnie vedendo Debbie un pochino frastornata decide che magari era il momento di andare a dormire ma Alan insiste per fargli restare un altro pochino e nel cercare di fermarli prende Debbie per un braccio appena Arnie vede questa scena gli dice un pochino a brutto muso ad Alan che non si deve azzardare a toccare Debbie così i due iniziano a battibeccare e ad un certo punto Debbie dice che ha visto gli occhi di Arnie cambiare completamente diventare neri Arnie si avvicina ad Alan tira fuori un coltello e lo aggredisce Alan si trascina fuori casa e a quel punto Arnie non so se per la paura o non so per quale motivo prende e scappa Debbie ovviamente corre immediatamente fuori casa per soccorrere Alan e chiama subito la polizia la polizia racconta che ha trovato un coltello poco distante dalla vittima e che questo coltello fosse molto diverso dal solito coltello perché sembrava come se questo coltello quasi brillava anche io quando l'ho sentito sono un pochino rimasta ho detto dai come è possibile e invece nel documentario che ho visto gli agenti dicono che effettivamente questo coltello brillava l'agente che ha ritrovato il coltello l'ha fotografato e ovviamente l'ha conservato come reperto era un coltello a serramanico con una lama di 13 centimetri e siccome la polizia ha saputo da Arnie che faceva il potatore di alberi Arnie si è giustificato dicendo che aveva questo coltello perché lo utilizzava per lavoro ritornando a noi visto che Arnie è dietro le sbarre i Gletzel si rivolgono alle uniche persone che gli sono state vicine e che li hanno aiutati durante la loro terribile bruttissima esperienza ovvero i Warren tutti coloro che hanno assistito per mesi agli avvenimenti che erano avvenuti a David erano certi che il maligno era entrato in Arnie durante gli eventi spaventosi di quella notte e che il maligno stava aspettando il momento migliore per manifestarsi e attaccare secondo il demonologo Michael Salerno il demone voleva punire Arnie perché era ancora in collera dopo che Arnie aveva osato sfidarlo ma ovviamente queste sono solamente le parole di un demonologo per la polizia di Brookfield era ovviamente un caso evidente di omicidio l'ispettore capo della polizia Anderson è stato contattato dai coniugi Warren che hanno chiesto di poter parlare con lui e con i detective che si stavano occupando di questo caso l'ispettore Anderson accetta di un buon grado questo incontro per vedere se in qualche modo riusciva a capire qualcosa in più i Warren arrivano alla stazione di polizia e condividono tutto quello che sapevano riguardante il caso ovviamente gli spiegano che Arnie aveva provocato precedentemente la bestia di entrare in lui per lasciare in pace il ragazzino e gli dicevano appunto che secondo loro c'era stato un trasferimento di quell'entità dal piccolo David ad Arnie e che sia stato proprio ciò a spingere Arnie a commettere l'omicidio dopo tutto quanto il racconto di Warren Anderson continua a non credere a quello che gli era stato appena detto così Ed continua dicendo che il bambino era stato impossessato da 43 demoni e che tutto ciò non era assurdissimamente uno scherzo ma Anderson e i detective rimangono molto scettici e non si convincono che tutto ciò sia effettivamente vero per loro rimane un omicidio nel frattempo ad Hartford la capitale del Connecticut John Harris un giovane reporter del principale giornale della città viene assegnato al caso di Arnie solamente quando manca una settimana al processo quindi John Harris viene chiamato dalla direzione centrale e gli hanno detto appunto che c'era stato un omicidio nella cittadina di Brookfield ma gli dicono che sembrava anche che ci fossero delle ipotesi dietro di un caso di possessione quindi John fa tutte quante le sue ricerche e viene a sapere che era stata informata anche la diocesi di Bridgeport intanto continuano ad uscire altre notizie sui media dove dicevano che era stato il demonio e non il giardiniere ad uccidere Alan Bono quindi le voci si spargono per tutta Brookfield e in tutte quante le comunità vicine considerate anche che erano passati pochi anni dall'uscita del film l'esorcista che aveva avuto anche un grandissimo successo e diciamo che da quel film le persone hanno cominciato a credere sempre di più che potesse esistere appunto il diavolo per il Warren ovviamente questa era l'occasione migliore per portare il diavolo a processo potevano finalmente dimostrare il valore del loro lavoro in un'aula di tribunale e davanti una formale giuria i cittadini in quel momento si dimostravano più che disponibili ad accettare la possibilità che tutto quanto fosse vero che quindi dietro a quell'omicidio non c'era Arnie ma c'era il diavolo tutto ciò ha dato terreno fertile all'avvocato Martin Minnella Martin Minnella ovviamente era l'avvocato difensore di Arnie e in quel momento la sua priorità maggiore era incontrare Arnie che si trovava in isolamento nel penitenziario di New Haven Martin incontra Arnie e capisce che effettivamente Arnie non ricordava niente di quella notte men che meno dell'omicidio a questo punto vi dico un'altra cosa che ha detto sempre il demonologo Michael Salerno questo demonologo afferma che è normale non ricordare i propri atti nel caso di possessione perché dice che è come non essere lì e che è l'entità diabolica che prende il controllo completo della vittima ritornando all'avvocato e a Arnie Martin Minnella è talmente convinto di l'innocenza di Arnie che accetta di seguire la causa gratuitamente il processo si sarebbe detenuto al tribunale di Danbury vi chiedo scusa se sbaglio qualche pronuncia e quel caso aveva assunto ormai una rilevanza nazionale che tutti ne parlavano e tutti i reporter di tutto il paese si sono regati davanti al tribunale il primo giorno del processo è stato il 28 ottobre del 1981 e quel giorno durante il processo a più riprese le luci in aula hanno iniziato a spegnersi dico spegnersi così non ci saranno polemiche a spegnersi e ad accendersi interrottamente tant'è che il giudice ha chiesto di risolvere il problema e ovviamente non ci sono riusciti e ovviamente non sono riusciti a capire da che cosa fosse di peso questo avvenimento prima del processo Lorraine aveva detto al giornalista John che il diavolo si sarebbe sicuramente manifestato in tribunale durante l'udienza attraverso appunto alcuni fenomeni paranormali e aveva anche fatto notare a John che cosa era successo a un candidato della giuria perché il figlio di un candidato della giuria poco prima del processo ha avuto un incidente e purtroppo non è sopravvissuto e secondo Lorraine tutto ciò era riconducibile appunto al diavolo ritornando al processo quando l'avvocato Marti si alza per presentare il caso il giudice interrompe immediatamente la sua ringa e gli dice che la possessione diabolica non sarebbe stata ammessa come difesa il giudice dice che ovviamente non era di sua competenza negare l'esistenza della possessione e ha detto anche che nessuno poteva provarla quindi a questo punto Marti ha dovuto cambiare completamente strategia per farsi i carni potesse avere un giusto processo e semplicemente dice che Arnie si era difeso da un'aggressione che aveva precedentemente subito da Alan il 24 novembre del 1981 dopo tre giorni e 17 ore di camera di consiglio la giuria dichiara Arnie Johnson non colpevole di omicidio volontario il sollievo però è di breve durata perché Arnie Johnson viene condannato per omicidio preterintenzionale le parole del giudice sono state se c'è un cadavere qualcuno deve pagare quindi Arnie Johnson viene condannato a una pena dai 10 ai 20 anni e durante la detenzione si sposa con Debbie e dopo aver scontato neanche 5 anni di prigione viene rilasciato per buona condotta ovviamente per l'avvocato Marty Minnella questa è stata una grandissima vittoria perché una persona accusata di omicidio aveva fatto neanche 5 anni di carcere ovviamente Arnie si è sempre considerato innocente visto che non ricorda assurdissimamente niente di quel momento di quel brutto momento direi Ed e Lorraine Warren hanno continuato le loro indagini paranormali fino alla morte di Ed che è stata nel 2006 Lorraine ha continuato diciamo il suo lavoro da sola e ha prestato la sua consulenza per effettuare il film The Conjuring è morta poi purtroppo nel 2019 all'età di 92 anni oggi David Gletzel vive una vita tranquilla e riservata negli oltre 40 anni dal suo ultimo esorcismo fortunatamente non ha manifestato nessun sintomo di possessione diabolica Arnie e Debbie si sono trasferiti in un'altra città e sono stati felicemente sposati per più di 25 anni sono stati felicemente sposati solamente per più di 25 anni perché purtroppo nell'aprile del 2021 Deborah Gletzel è venuta a mancare e niente ragazzi e ragazzi mi dispiace per questo video lunghissimo ma io ve l'avevo detto se volevate che lo dividevo in più parti e mi avete per la maggior parte risposto che lo volevate tutto intero quindi spero che mi sia spiegato abbastanza bene che sia stato un video nonostante lungo abbastanza scorrevole mi scuso per eventuali sbagli di pronoccia metto le mani avanti da subito e niente ragazzi e ragazzi io come il mio solito vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al mio prossimo video ciao 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 ciao